Elisa Esposito questa mattina si è svegliata con tanti bolloni sulle gambe. Promettiamo subito che vi consiglio di iscrivervi alla S91 Riserva, attivare la campanella delle notifiche, seguirmi negli altri miei social e naturalmente spollicare il video in su. Povera Elisa sarà sicuramente un'allergia, diciamo che l'ultima storia l'ha fatta a settore, fa non l'ha fatta più, ovviamente ci auguriamo di cuore che non sia nulla di grave, ma sicuramente sarà un'allergia, può essere un'allergia alimentare, può essere stata punta da qualcosa, ma ripeto, Elisa Esposito, non si scherza sulla salute, quindi ovviamente tanti auguri, vi lascio al video. Allora, visto che mi state iscrivendo in tanti, vi tengo aggiornati con le storie, la situazione è sempre peggio, come vedete non sto migliorando per niente, anzi, messo la crema al cortisone ma nulla e ho fatto una specie di esperimento, ma come vedete non è andato a buon fine e se non migliora andrò in pronto soccorso.